Si è corso in Spagna a Barcellona e il copione è quello che ci si aspettava alla vigilia, ovvero una vittoria e ancora una volta dominante di Lewis Hamilton. Il podio è completato dai soliti noti, ovvero Verstappen e Bottas rispettivamente in quest'ordine. Una gara onestamente orrenda, a dir poco imbarazzante per il dominio espresso da Hamilton. In questa Formula 1, in queste gare soprattutto del 2020, sembra che gli unici piloti che possano fare qualcosa siano Hamilton, Verstappen e Bottas. Con Hamilton che è una spanna sopra Bottas e una spanna sopra anche Verstappen e ancora una volta il pilota inglese da dimostrazione di forza incredibile in Spagna. In una gara veramente penosa dove addirittura tutti i piloti che non sono finiti a podio sono stati doppiati. Segno che evidentemente questa Mercedes e Verstappen sono di un altro pianeta e lo stradominio soprattutto della Mercedes è arrivato a dei limiti che ogni Gran Premio sembrano irraggiungibili e puntualmente vengono superati dalla casa tedesca. Hamilton che vediamo qui inquadrato negli ultimi giri, appunto prima del taglio del traguardo, va a dominare una gara che era scontata ancora prima di partire. La Mercedes come al solito dà un secondo agli altri, la Ferrari si è presa un secondo e mezzo, noi dalla McLaren idem. L'unico che ci ha provato è Verstappen all'inizio della partenza perché appunto dopo lo spegnimento dei semafori il pilota olandese sfrutta un errore di Bottas in partenza che ha un gran difetto, ancora una volta, in questo tipo di manovra e di fatto la gara si congela dal giro 2 fino al giro 66. Io per una volta ho abbastanza poco da dire se non mandare degli spunti di riflessione importanti in questo Gran Premio di Spagna che ha detto molto per quanto riguarda le categorie inferiori, quindi Formula 2 e Formula 3, ma zero o poco altro per una Formula 1 che va con questo Gran Premio di Spagna a vedere questa classifica con Hamilton che di fatto corre da solo, 132 punti per il pilota inglese in questo campionato, secondo è Verstappen che dunque si conferma essere quantomeno sulla carta il antagonista numero 1 di Hamilton e terzo è Bottas che ha fatto il suo solito podio, in realtà molto anonimo, non ha avuto neanche il passo e le gomme per superare Verstappen, Valtteri Bottas purtroppo si conferma ancora una volta un pilota inferiore rispetto ai primi due che sono sia Hamilton che Verstappen. C'è stato soltanto un ritirato in questa gara che è stato Charles Leclerc che si è girato, ha avuto poi un problema al motore, ultimo Leclerc, la Ferrari fa una gara ancora una volta anonima con Vettel che finisce al settimo posto comunque sfruttando ottimamente le gomme soft facendo una sosta in meno e per questo Vettel si merita una menzione. Gli altri risultati sono Lance Stroll, quarto con la macchina rosa, quinto Sergio Perez a rientro dopo due stop per Covid al quinto posto appunto con l'altra macchina rosa, sesto è Carlos Sainz Jr con la mia McLaren che finalmente torna in posizioni un po' più oneste, settimo Vettel abbiamo già detto, ottavo Alexander Albon che fa una gara abbastanza in colore, non ha posizione per Pierre Gasly che con la Toro Rosso fa prestazioni più convincenti rispetto a quando era in Red Bull lo scorso anno e chiude la zona punti Lando Norris con la seconda del McLaren, parentesi sugli italiani, Antonio Giovinazzi finisce sedicesimo per un Alfa Romeo che onestamente è disastrosa quasi quanto la Ferrari se non di più. Quello che però vi dicevo fa riflettere è che i primi tre piloti sul podio hanno completato tutti i 66 giri previsti dal Gran Premio di Spagna, tutti gli altri quindi da Stroll in giù sono stati doppiati e questa cosa è scandalosa. Io onestamente è 20 anni che seguo la Formula 1 pur essendo molto giovane, io ho 26 anni e non mi ricordo un domino del genere, non mi ricordo che nessun pilota avesse mai doppiato tutti tranne quelli appunto che sono saliti a podio e ripeto la FIA dovrebbe farsi qualche domanda e soprattutto anche la proprietà della Formula 1 perché vi ricordo che Liberty Media è una proprietà americana e considerato che gli americani spesso sponsorizzano i loro prodotti come sport spettacolari, vedi per esempio il baseball, il basket, il football americano, vedere un dominio così imbarazzante di un pilota che comunque già è un campione e Hamilton per me rientra in questa categoria, però ammetto che così è veramente troppo facile, tanto vale che a questo momento la FIA consegni il settimo titolo del mondo a Hamilton e gli dica senti Lewis basta non correre più per oggi hai dato, per quest'anno hai dato, torna l'anno prossimo quando magari faremo delle macchine e imporremmo dei regolamenti sulle macchine un pochino più equilibrate rispetto a questa Formula 1 che è veramente orrenda da vedere per un non appassionato e anche per un appassionato come me perché è vero, c'è la Mercedes che Uber Ales fa quel cacchio che vuole, anche Hamilton veramente poteva andare paradossalmente su una sosta sola che avrebbe vinto comunque, vi ricordo che comunque Hamilton ha vinto anche su tre ruote a Silverstone, c'è Verstappen che ci prova e c'è riuscito per il momento una volta a battere Hamilton, per il resto fa podio che comunque per la Red Bull è un buon andare soprattutto anche per Verstappen, poi c'è Bottas che comunque ha la macchina uguale a Hamilton ma comunque Bottas è un pilota meno bravo di Hamilton e il resto è il buio assoluto, sì si lotta per i punti, ci sono dei duelli, ci sono delle cose interessanti ma il timore che appunto si assistesse a una Formula 1 dominata da Mercedes con delle gare orrende e noiose diciamo ha avuto la sua concretezza nella gara di Spagna dove Hamilton ha doppiato tutti i piloti che non sono finiti sul podio, una roba veramente orrenda e non è perché è Hamilton che lo fa ma perché insomma questi regolamenti che saranno congelati fino al 2022 quando cambieranno le regole sulle Formula 1 evidentemente è un regolamento che ha uno stradominio predominante e incredibile di Mercedes che ripeto già è più forte e non avrebbe bisogno secondo me di vincere i mondiali così tanto in carrozza si spererebbe in un mondiale più combattuto ma per questo 2020 ce lo possiamo sognare fatto sta che Hamilton vince in tutto questo la sua 88esima gara della carriera si avvicina sempre di più al record di Schumacher che batterà se continua così ma è inevitabile considerato che corre di fatto da solo e contro nessuno per lui suona God Save the Queen passiamo dunque alla Formula 2 dove gara 1 di Catalunia la vince c'è il giapponese Nobuaru Matsushita che fa una grandissima gara sfruttando 80 safety car e pit stop aggiunti rispetto alla norma sfruttando poi una posizione di partenza sfavorevole con una strategia oltremodo favorevole al giapponese Nobuaru Matsushita va a vincere la gara numero 1, quella lunga, delle due previste in Catalunia e dalla 18esima posizione addirittura va a vincere la prima gara della stagione per quanto riguarda il suo campionato di Formula 2 Matsushita in realtà è un pilota di metà classifica di questo schieramento seconda posizione per Robert Schwarzman che si riscatta dopo due weekend di Silveston veramente disastrosi e di fatto a corcia sul leader del campionato Carlo Milot che non fa nessun podio in nessuna delle due gare la terza posizione per il cinese Guan Yu Zhou, pilota della giovane della Renault che riesce anche lui a riscattarsi in parte anche se le verità di titolo al momento sono abbastanza lontane per un pilota che comunque se rimanesse l'anno prossimo in forma dove potrebbe essere uno dei candidati al titolo per quanto riguarda la gara 2 vince Felipe Drugovic, pilota brasiliano, per lui suona per la seconda volta l'inno nazionale della sua nazione seconda posizione per Luca Ghiotto che finalmente si riscatta e sfrutta l'inversione della griglia in gara 1 per fare podio e arrivare al secondo posto terza posizione per Mick Schumacher al quarto podio della stagione quinta posizione in generale per il figlio di Michael che comunque sta crescendo al suo secondo anno in Formula 2 una Formula 2 che nella gara 1 ha visto appunto tante safety car per via di numerosi incidenti in una gara 2 ha visto in realtà Carlo Milot crollare il leader del campionato per un crollo repentino delle gomme salva a stento un'ottava posizione l'ultima per i punti il pilota inglese che dunque va al prossimo appuntamento del Belgio con 121 punti, 103 invece per il suo rivale Robert Schwarzman ed è comunque un buon viatico per la Ferrari perché sia Carlo Milot che Schwarzman sono piloti del Ferrari Junior Team Ferrari Junior Team che ha 3 piloti nei primi 5 è considerato anche Mick Schumacher meno bene per la Ferrari, Marcus Armstrong che è calato clamorosamente dopo la prima gara e appunto Giuliano Alesi che naviga nel fondo dello schieramento passiamo invece alla Formula 3 anche qui ci sono dei vincitori interessanti in particolare J.C.U.X un pilota esperto di questa categoria J.C.U.X alla mia età è un classe 94 per lui suona God Save the Queen così come per Hamilton vince la prima gara di Catalunia seconda posizione per Liam Lawson all'immismo podio stagionale il pilota giovane della Red Bull è uno da tenere d'occhio e se rimanessi in Formula 3 potrebbe essere un papabile per il titolo anche se in realtà lo è già adesso perché come vedete il distacco tra i primi 3 è veramente molto risicato Logan Surgent fa podio e si conferma leader del campionato anche se l'americano pagherà la gara 2 finendo quinto ma soprattutto perché in gara 2 vince Oscar Piastri pilota australiano e dunque per lui suona Advance Australia Fair seconda posizione per un altro australiano ovvero Alexander Peroni che in realtà è un tasmaniano ma comunque corre con licenza australiana e c'è il primo podio italiano in Formula 3 con il grande Matteo Nannini che fa la prima gara a punti della carriera in Formula 3 decimo in gara 1 sfrutta l'inversione della griglia che in Formula 3 vale per i primi 10 parte dal palo in gara 2 difende con le unghie con i denti in questa terza posizione che vale punti importanti per lui e per il team Jenser e dunque festeggiamo quello che è il migliore degli italiani giovanissimo tra l'altro Matteo Nannini Matteo Nannini ricorda un classe 2003 pilota romagnolo di Faenza parentesi sugli altri italiani Federico Malvestiti si ritira e fa 26esimo nella prima gara è rientrato Leonardo Pulcini in Formula 3 in sostituzione di Ben Bornicott che a sua volta aveva sostituito in Amanpred sono a 16esimo e a 14esimo il pilota romano ultimo italiano clasificato all'estido dell'Edda weekend problematico per lui ritirato in entrambe le competizioni comunque tutte le categorie della Formula 1 e affini quindi Formula 2 e Formula 3 torneranno in Belgio a Spa-Francon-Champ tra due settimane quindi weekend del 30 agosto e dunque per quel giorno ci sarà ovviamente il racing podcast dedicato alle 19 mentre per quanto riguarda il prossimo video sul mio canale vi aspetto sempre domani alle 19 per parlare della gara di MotoGP che si è conclusa in Austria oggi questa domenica ma che io non ho ancora visto dunque vado a recuperare una volta finito di recitare questo video fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questa Formula 1 che sta diventando sempre più noiosa sempre più imbarazzante dominata da un fenomeno come Lewis Eventon ma comunque in maniera abbastanza incredibile e clamorosa ma al contrario il saluto da parte di Metutorg e ci vediamo dunque domani con il nuovo video sul canale